Durante la 46esima edizione del congresso nazionale dell'AISD in corso a Bari, congresso dell'Associazione Italiana Studio Dolore, si parla anche delle nuove evidenze dell'utilizzo della LAC, la L-acetilcarnitina, nel dolore nocicettivo e in particolare nella fibromialgia. Noi ne parliamo con il professore Enrico Polati. Professore, durante il congresso ha presentato nuove evidenze cliniche sull'impiego dell'L-acetilcarnitina sia nel dolore neuropatico che nel dolore nociplastico. Allora, partiamo col capire che tipo di molecola è la L-acetilcarnitina. La L-acetilcarnitina si può definire come un vero e proprio farmaco epigenetico, ossia che modifica l'espressione del genoma e che ha delle proprietà importanti nel trattamento del dolore sia neuropatico, per le note proprietà, agisce contro la neuroinfiammazione, sia nel dolore nociplastico, quale ad esempio la fibromialgia. In questa mia relazione ho portato delle evidenze scientifiche sull'impiego dell'L-acetilcarnitina nel trattamento del dolore nelle pazienti fibromialgiche. Ecco, quali sono i principali output che vengono fuori da queste evidenze e magari se ci racconta qualche evidenza? Il principale output è che la L-acetilcarnitina, oltre che agire migliorando la sintomatologia dolorosa, agisce anche con un importante effetto antidepressivo e anche con un importante effetto sulla stanchezza e sulla qualità del sonno. Questi sono i principali effetti della L-acetilcarnitina in questa sindrome che è molto variegata e che richiede un approccio multidisciplinare e multimodale. La L-ac agisce con gli stessi meccanismi, sia sul dolore neuropatico che sul dolore nociplastico, cioè agisce sulla neuroinfiammazione, ha un effetto antiossidante, quindi neuroprotettivo, e agisce migliorando i punteggi legati alla depressione che molto spesso è presente nei pazienti, sia con dolore neuropatico che con dolore nociplastico. Professore, ci racconta qualcosa in più sui vostri dati, sul vostro studio? Sì, è uno studio che è stato eseguito su 184 pazienti che sono state seguite, è uno studio di Real Life, cioè noi le pazienti le abbiamo seguite per 15 mesi e siamo andati a misurare alcuni item importanti in questo tipo di patologia, quali il FIC, il fibromialgic Impact Questionnaire, che è un questionario sulla qualità di vita del paziente fibromialgico. Siamo andati a valutare i punteggi di dolore e siamo andati a fare un follow-up che durava 15 mesi e quindi importante come periodo di studio del dolore. Ecco, da questo studio che consigli può dare anche ai suoi colleghi o comunque cosa può essere importante poi per la vostra pratica clinica? Che oltre ai farmaci che di solito si usano di primadina nel trattamento di questa particolare forma di dolore nociplastico, quali ad esempio la duloxetina o il pregabalin, anche la levo HCT-carnitina ha un ruolo importante che deve essere considerato nel trattamento di queste pazienti.